Questa notte permette alle persone di sfogare tutto l'odio e la violenza che hanno dentro. Gli Stati Uniti sono schiacciati da crisi, sovrappopolazione, criminalità e miseria. Un partito di estrema destra salito al potere, i nuovi padri fondatori, pensa che l'unica possibilità di risanare il paese sia l'istituzione annuale di una notte in cui ogni reato sia lecito, chiamata lo sfogo. Il fascino del mistero legato alla notte dello sfogo rischia di scolorire nella prevedibilità e la componente thriller passa in secondo piano rispetto alla rivolta sociale, ma colpisce il coraggio di firmare un film in cui i protagonisti siano afroamericani indigenti e i personaggi caucasici rappresentino il male. Se scappa, get out, ci aveva aperto gli occhi sulla percezione della questione razziale, la prima notte del giudizio aumenta il carico, svolgendo il suo sporco lavoro con generose dosi di piombo. Grazie. Grazie.